I nostri bambini sono stati accolti in un'atmosfera piacevole. In questi giorni non sentono i suoni delle sirene, si divertono e dimenticano per un poco la guerra. Un'esperienza unica. Già, dimenticare la paura grazie allo sport. Era questo l'obiettivo del Torneo della Pace che, promosso da ICS Ungheria nell'ambito del progetto Lontano dalla guerra grazie allo sport, ha portato a Roma nei giorni scorsi un gruppo di giovani calciatori ucraini di Leopoli. I piccoli, di appena 10 anni, accompagnati da mamme e amici, hanno incontrato sul campo del Cristo Re di Roma i coetanei di Ostia Mare e della stessa polisportiva Cristo Re. Un'occasione unica, come dice la giovane mamma anche lei in fuga dalle sirene, che solo lo sport può dare. Alla squadra ucraina che è stata invitata al nostro torneo internazionale a maggio c'eravamo ripromessi di portarla in Italia e la promessa è stata mantenuta. Quello che ci auguriamo per il futuro è che tutto questo presto si svolga anche nel loro paese dove ci auguriamo che questo conflitto finisca e questi bambini possano rigodere della loro tranquillità, serenità e gioia che loro meritano.